ospitiamo oggi ai nostri microfoni domenico romeo e il suo nuovo romanzo libanese questo è il suo nuovo libro conosciamo domenico romeo criminologo oltre che scrittore benvenuto a radio incontro buongiorno grazie dell'invito è un onore per me essere qui con voi la prima volta insomma che dialogo con un emittente di terni e questo mi fa molto piacere insomma ecco il piacere è tutto nostro prima di conoscere il libro conosciamo l'autore criminologo appunto domenico romeo ci racconti un po di chi è lei ma semplicemente io sono un criminologo presso l'ancrim associazione nazionale criminologi criminalisti italiani che opera su milano e nel contempo sono docente di criminologia presso il master di criminologia prometes qui in calabria quindi insomma mi muovo fra fra milano e la calabria e quindi che oltretutto insomma la mia è la mia terra la mia la mia regione sono di regio calabria quindi insomma mi muovo in quest'ambito e in questa dinamica insomma da tantissimi anni ormai ecco parliamo del suo libro romanzo libanese sì 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 romanzo libanese è il mio sesto libro il sesto libro della mia della mia vita è romanzo libanese edito da castelvecchi editore è un libro che nasce appunto come dice il titolo stesso nasce il libano e nasce il libano agli inizi degli anni 80 quindi fra il 1981 e 1982 perché dico queste due date perché nel 1982 e in libano si è è maturata purtroppo una una strage ferata che la cosiddetta strage di sabre sciatila una delle stragi purtroppo più efferate della storia del crimine internazionale ma allo stesso tempo è stata per alcuni aspetti anche una una strage un po sottaciuta cioè non è non ha avuto quelle casse di risonanza no che magari hanno avuto altri altri tipi di strage e nel 1981 quindi un anno prima nasce la protagonista del dell'opera la protagonista della narrazione sua ir che crescendo e vivendo respirando insomma i fumi e i postumi di questa strage di sabre sciatila abbraccia un'idea di guerriglia del tutto personale diventa una guerrigliera cristiano maronita dico cristiano maronita perché comunque il libano per tantissimi anni storicamente è una nazione bellissima per carità ma comunque divisa in molte fazioni e molte e molte etnie abbraccia quindi questa idea di guerriglia diciamo somatizza per molti aspetti un senso di colpa del tutto personale dovuto a delle vicende personali vissute all'interno della propria infanzia e cerca di realizzare quello che è un suo progetto personale partendo dal libano ossia il principio ideologico dell'esportazione della guerriglia questo principio di esportazione della guerriglia fa sì che questa giovane guerriera allascia dei rapporti con delle cellule internazionali e va a vivere in francia dove viene protetta da cellule dei servizi deviati e cerca a sua volta in francia quindi nel cuore dell'europa di stringere accordi con variegate forme di cellule insurrezionaliste tutto questo fa sì poi a maturare un altro principio no un'altra idea attraverso legami con il mondo intellettuali col mondo dell'anarchismo col mondo di variegate strutture ideologiche che siano esse sia dell'estrema destra sia dell'estrema sinistra fa sì che questa giovane donna coperta dai servizi partecipa al G8 di Genova in Italia avvenuto nel 2001 e in questa questa guerrigliera unitamente ad altri e ad altre cellule insurrezionaliste in Italia in quei giorni subisce appunto la furia la furia di quei giorni che c'è stata nel G8 di Genova per poi ritornare in francia un'altra volta a ricostruire una propria vita sempre partendo dai propri principi ideologici per poi ritornare nuovamente dopo tanti anni in Libano trovando però una sorpresa cioè trovando comunque un paese mutato un paese profondamente cambiato un paese profondamente cambiato anche in virtù di una nuova invasione da parte dell'esercito israeliano ecco questo quindi questo riaccende in in questa giovane guerrigliera una nuova miccia al punto tale da riuscire a coordinarsi a conoscere tantissime figure diverse da loro in Libano sia figure aderenti a Yesbollah trafficanti di droga persone che vivono in quella linea marginale di confine in quella zona in quella zona d'ombra dei confini libanesi che sono zone franche dove convergono cellule del mondo insurrezionalista dove convergono sigle di variegati servizi segreti servizi segreti iraniani servizi segreti palestinesi ebraici e quant'altro e soprattutto aggancia rapporti con diverse donne che vivono in quelle linee marginali di confine come donne ebree donne palestinesi e queste queste donne raccontano le proprie rivendicazioni personali quindi abbiamo all'interno della della narrazione delle rivendicazioni del mondo comunque palestinese all'interno di quei campi profughi che vivono nel Libano e che confinano appunto con con la Palestina così come le rivendicazioni del mondo del mondo ebraico fino a quando poi scatta una successiva molla e arriva a condurre poi delle successive scelte di vita che sono molto forti con un finale molto forte a sorpresa che insomma ecco non non sto qui a dire se non insomma perdiamo un po' la suspense del del libro e della e della narrazione ecco questo un po' è il sunto di romanzo libanese un romanzo insomma molto forte nei nelle connotazioni psicologiche perché vengono vengono evidenziate le marcature opposte le marco le marcature estreme dal punto di vista delle suture intime ideologiche da parte di varie personaggi che di vari personaggi che sono comunque indicati e descritti all'interno del romanzo ecco quindi un senso di rivoluzione in un contesto molto delicato come quello libanese con un amore omosessuale sì la la protagonista e ha un'attrazione omosessuale nei confronti oltretutto di una sua amica infanzia cerca di coinvolgerla in questo principio di esportazione della guerriglia e a suo tempo cerca di dimostrare il proprio amore nei suoi confronti ma tutto questo non sortisce esito positivo ma anzi riceve da parte di questa di questa sua amica riceve un muro davanti sia dal punto di vista dell'appartenenza ideologica sia dal punto di vista della corrispondenza insomma di questo amore omosessuale ecco che comunque non non è una non sconvolge comunque i piani della nostra guerrigliera ma comunque lei continua a interagire continua nei propri propositi rivoluzionari che poi in parte vengono realizzati in parte comunque non vengono tra virgolette realizzati motivo poi insomma chi leggerà il romanzo lo lo capirà insomma attraverso dei colpi di scena e dei rocamboleschi mutamenti che avvengono nella vita di questa guerriglia era sempre legata comunque legati comunque alla propria nazione cioè all'appartenenza a questa terra al libano che ha un richiamo molto forte nella vita di questa di questa guerriglia era una terra bellissima che se in passato era considerata chiamata la svizzera del medio oriente dagli anni 80 in poi per rocamboleschi capovolgimenti di fronte insomma è diventata un po un teatro di guerra dove ci sono miscugli di etnie e sangue un po ovunque per riuscire a determinate 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 forme di equilibri che sono comunque sempre precari ecco ogni giorno io la ringrazio tantissimo lo ricordo domenico romeo e il suo libro romanzo libanese e vogliamo dare i contatti social per venire a conoscere di più lo scrittore domenico romeo sì io ho una pagina facebook domenico romeo c'è anche un gruppo su facebook domenico romeo scrittore io una pagina facebook domenico romeo normale ho un contatto instagram domenico romeo sempre e basta poi la casa editrice castelvecchi comunque ha una pagina legata al libro quindi comunque chi vorrà attenzionare maggiormente la sinossi del testo insomma può benissimo entrare nel sito della della casa editrice oppure cliccare su google dove vi sono già numerose recensioni in merito ecco grazie infinite grazie davvero noi ci sentiamo magari alla prossima opera va benissimo come no certo ci sono delle opere ancora in cantiere che come ho detto anche prima ad altri ad altri amici insomma sono su file depositate sul pennino ma per adesso insomma concentriamoci con questa e poi più in là tempo debito poi le cose si fanno con calma senza fretta ecco bene buona giornata buon lavoro grazie a voi di tutti un saluto a tutta l'umbria da parte mia grazie davvero grazie